Un malato di tumore che ha bisogno o un familiare telefona, non c'è lista d'attesa e il nostro medico entro 24 ore va a casa del malato e cerca di rilevare i bisogni sia sociali che sanitari e di dare delle risposte immediate. A parte questo servizio di cure domiciliari, appunto effettuato sia dai medici che dagli infermieri, c'è la reperibilità effettuata dai nostri medici 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Noi facciamo quella che si chiama ospedalizzazione domiciliare, trasferiamo l'ospedale a casa dei malati e poter stare a casa genera già un sollievo da un punto di vista psicologico che è molto molto importante nelle fasi così acute e gravi della malattia. Questa associazione che io ho potuto verificare in prima persona cosa vuol dire perché ha assistito mia moglie è assolutamente insostituibile perché questi infermieri medici che vengono a casa cioè te li vedi come delle specie di angeli che vengono a aiutarti, a insegnarti, a fare delle cose che ti non avresti mai pensato di fare in vita tua. Facciamo tutti i pezzi, anzi esclusivamente i pezzi contenuti nelle colonne sonore dei film di venti in Tarantino, diciamo un repertorio piuttosto complesso però la gente di solito apprezzano molto eccetera. Grazie a tutti.